Piede. Va bene son, arriva le macchine. Non volevo scoppiare il pedalato al piede. Davide, lì. Comunque c'è un'umidità che ti ammazza eh. E' rotta. Guarda, sto quello con la MG. Ah beh? Mamma mia. Ah. C'è una malattia che... Dico, c'è una malattia che sta sempre così, che poi cammina molto... Rascita, mamma mia. Però c'è proprio dove sa la capa...